Ehi! Più forte! Mamma, dove vai? Io vado a scuola a posto di te! E non fare dispetti con gatto! Non fare dispetti con palloncini in bagno! E non fare con la pasta dispetti in cucina! Ciao! Ciao! Cosa fai? Ma, dove vai? Amelia? Bartonelli? Si? Scarico qui in cantina? Si! Bene! Che è Bartonelli? Mozzarella? Eh? Ci hanno portato un paio di pachi! Pachi? Mi piacciono, pachi! Andiamo! Amelia! Ehi! Dove, patti? Mi! Ohhhh! 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 Valentini! Dove vai? Amelia! Amelia, ma mamma ci mette in castigo! Ma lei non si accorgerà! Noi, non si accorgerà! Non si accorgerà! Aia! Ahah! Vi guarda! Faccio più forte io! Guarda! No, 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 no! Sono più bravo io! Aspettito! No, 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 no! E' mio! E' mio! Facciamo chi è veloce? Chi prima? Prima? Chi prima? Oh! Elia! Prova! Non dico tutta la stomata! Dici? Vai, non c'è! Aspetta! Uno, due, tre! C'è la pressione! Amélia! Amélia! Aaaaaah! Eee! Eeee! Quanti pallini! Sono sicuro che qua ci sono più di 100 pallini Ma no! Come no? 70 non di più! Io dico 100! No, no! Guarda! Facciamo conto? Quattro! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette... Ma smetti! Ma smetti! Ehi! Smetti! Amelia! Anche tu mi hai fatta male! Sì! Sì! Vediamo cosa ti dici dopo questi pallini! Niente! Io dico che è stata tua idea! È stata tua idea! Sì! 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 Aspetta! Aspetta! Ti chiudo! Aspetta! Sì! 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 E cosa fai se ho preso sei in matematica? Amelia! Adesso mi chiudo! Amelia! Ho perso il mare! Se li vedi li vedi! Mare! 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 Aia! Vabbè! Ti do una mano! Basta giocare! E' altra mano! Sono tante rughe! Faccio io, faccio io, faccio io, faccio io, ultima Vinto! A vinto! Vinto! Aiuto, aiutami, Alistair! Aiuta! Ma cos'è io? Copriti, copriti! Mamma arriva! Copriti! Aspetta, voglio sentirsi la mamma! E tu? Bene! Che? E tu? Senti passi! Sì! Stai zita! Non moviti! Amelia! Zia mozzarella! Zia mozzarella! Ehi! Sorpresa! Mamma! Ma cosa avete fatto? Sembra contenta! Sorpresa! Sei contenta? Mamma! Ti piace la nostra sorpresa? Eh? Mamma! Dove sei? Guarda, guarda mozzarella cosa fa! Guarda! 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 Piano! Piano! Chi c'è mamma sotto? Guarda! Guarda! Vai via! Guarda! Piano! Guarda! 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 No, no, no. Dai, no, no. No, no. Cucu, mamá. Guarda, guarda. Guarda. Dove è Amelia? Mamá. Cucu. Cucu. Mamá. Aiuto. 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 Aio. Mi che mi ha schiacciato il piede. Dai, ci fa anche riportare. Meno così non mi dice niente cosa è successo in scuola. Mamá, com'è andata a scuola? Bene. Diodetto. non sei fortunato non è lì? non è sono tutti i pallini arrivando nella tua stanza per scherzo dove avete preso tutti questi palloncini? stamattina è arrivato un signore curriere ha sbagliato la casa cosa? ma era tu idea, ti ho detto ti ho detto cosa mi hai detto? non ti ho detto niente tu era prima subito tutti e due in castigo hai visto? ma perché? sei pasticciona ma era tua idea sei pasticciona tutti e due in castigo vai vai colpa tua potevamo ancora giocare ti ho detto cosa? dai usciamo lei ha detto cinque minuti ma lei non ha detto niente dai andiamo amelia metti like iscriviti su mio canale amelicivicio ciao 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 ciao